I Big Data Online stanno riscrivendo le regole della competitività e della produttività aziendale. Sono passati ormai diversi anni da quando l'Economist scioccò il mondo con una copertina che definì Big Data come il nuovo petrolio. Eppure tutti i giorni le nostre aziende producono e ricevono un quantitativo impressionante di dati, solo che spesso non sanno che farsene. Allora che cosa sono e a cosa servono i Big Data? Già, cosa sono questi Big Data? Se ne parla moltissimo ma pochi sanno realmente cosa siano. I Big Data Online sono l'enorme quantità di dati che vengono raccolti continuamente in base a come gli utenti si muovono online, a quello che scrivono, a quello che cercano, a come si spostano sui diversi siti web. E quindi tutta questa enorme mole di informazioni permette poi di studiare la situazione e di comprendere i comportamenti a un livello superiore rispetto a guardare la singola attività. Concretamente, infatti, ci sono moltissime potenzialità di utilizzo. Possono servire per studiare il mercato, capirne le dinamiche che si sviluppano all'interno, cogliere dei nuovi trend, cogliere quei segnali deboli che descrivono in qualche modo il cambio delle preferenze dei clienti, andare a capire le caratteristiche dei clienti, andare anche a studiare quelle che sono le strategie online di posizionamento dei nostri concorrenti. E infine possono servire proprio per andare a comprendere come la nostra azienda viene percepita all'interno del nostro settore. Esattamente. Per poter trovare tutte queste informazioni pratiche è necessario però attingere a fonti di dati diversi. È necessario che questi dati siano aggiornati. I Big Data Online ci permettono appunto di avere dati che sono generati adesso, non mesi e mesi fa, come ad esempio quando si studia il mercato tramite sondaggi e interviste. Inoltre questi dati devono essere personalizzati, devono essere dati calati attorno all'esatta realtà dell'azienda che li utilizza. E la cosa davvero interessante è che oggi questi dati sono disponibili anche alle piccole e medie imprese, anche ai liberi professionisti che colgono un'opportunità, capiscono quanto sia importante iniziare a prendere decisioni basate sui dati e non più sulle opinioni. Quindi da oggi puoi anche tu prendere decisioni migliori per far crescere il tuo business.